Buongiorno a tutte, oggi faccio un video haul sulle Yankee Candle lo faccio perchè un mese fa io sono andata a Padova e per caso alla Coing finalmente le ho acquistate quindi ne ho provate tre o quattro, adesso non mi ricordo, mi sembra quattro e le ho provate e le ho prese quelle piccoline appunto le votive, quelle piccole, per provare le profumazioni anche per vedere perchè io sono amante delle candele in generale ma quelle dell'Ikea finora hanno le mie preferite quindi ne ho comprate quattro ed allora è scoppiato l'amore, la dipendenza quindi stavamo già pensando, torniamo a Padova, le compriamo online, facciamo di tutto fino a quando nel centro commerciale vicino a casa mia le ho trovate, le ho trovate in tre punti vendita allora le ho trovate in un negozio per la casa, in un stand molto piccolo e ce n'è proprio quattro profumazioni, quattro colori in un negozio americano che vuol dire vendono tutte cose americane non lo so appunto le Yankee Candle, piuttosto che i giubbini di pelle le All Star, insomma tutte le cose americane per gli amanti appunto e poi le ho trovate ieri, la grande scoperta, in un negozio che si chiama Brico e lì c'è lo stand veramente gigantesco e hanno anche i diffusori quelli appunto originali di Yankee che andano a questi hanno i profumini per la macchina ah questo è sempre il gatto, mi sa che faremo il video con il gatto sto giro perché oggi è alla mia golite e quindi ci sono i diffusori, ci sono gli spray, c'è di tutto e di più quindi ho detto mi vedranno molto spesso quindi ieri ne ho presa ancora questa profumazione che vi faccio vedere adesso e oggi sono tornata, sono uscita di nuovo per comprare i diffusori perché ho comprato anche delle tartine delle Yankee Candle allora questi diffusori qua li conoscete benissimo per chi conosce le Yankee Candle si mette dentro qua la tea light, scalda e qua mettete un pezzettino della tart della tartina, un pezzettino, un quarto, mezzo, dipende dalla vostra preferenza si scioglie e esce la profumazione allora queste qua io le ho prese dai cinesini perché non volevo prendere appunto quello originale di Yankee Candle che mi costava 10 euro, questa ho pagata un euro dal cinesino ed è anche carina, quindi ho preso questo e ho preso questo cubotto perché quelle rosse erano finite, questo non è niente di che, è veramente bruttino magari lo decorerò, comunque le ho pagati un euro ciascuno e ho preso queste profumazioni qua che adesso ve le faccio vedere allora ho preso la Beach Walk ho preso la classica Clean Cotton che l'ho sentito parlare tantissimo ho preso la Home Sweet Home questa si dà un po' l'aria invernale però questa che mi piace tantissimo infatti credo che la metterò già stamattina Strawberry Buttercream quindi odore di dolcettino queste e queste sono le tre tarte appunto da usare con il diffusore ah guarda a casa l'ho presa una rossa e una blu proprio in tinta con il diffusore e questa che si chiama Pink Drago Fruit questa è la questa ha un odore di limone molto forte Sicilian Lemon e la Turquoise Sky anche queste sono devo dire che a me sembra che le tartine abbiano più profumazione delle candele non so mi sembra a me magari qualcuno mi dirà se è vero oppure no ecco qua questo è il malloppo di oggi sono adesso mi sa che ho una nuova fissa e sono le candele delle Yankee Candle bene ottimo le provo e poi vi dico insomma vi farò sapere se qualcuno ha qualche altra profumazione che gli piace tanto vuole farmela vuole consigliarmela per provarla me lo dica pure ecco qua grazie per avermi guardato e buona domenica ciao